Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Hanno ottenuto dall'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini rassicurazioni e l'impegno di istituire entro dieci giorni un tavolo permanente sulle problematiche che affliggono il sistema sanitario del Piceno. Così la delegazione sindacale dei lavoratori dell'area Vasta 5 ha deciso di revocare la manifestazione organizzata per martedì prossimo ad Ancona davanti alla sede dell'Assemblea Legislativa. Dopo le prese di posizioni dei giorni scorsi il personale sanitario aveva deciso di far sentire la propria voce e organizzare un sit-in davanti al Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo ad Ascoli dove era stata convocata la conferenza dei sindaci sulla sanità. In un primo momento è stata anche l'occasione di confronto con l'assessore al bilancio Guido Castelli mentre si recava all'incontro con gli amministratori del Piceno e di vertici dell'Asur. Il personale Asur giustamente lamenta una situazione che negli anni ha prodotto a carico dell'area Vasta 5 una vera e propria condizione di discriminazione per il semplice motivo che una serie di vicende sottovalutate negli anni scorsi dall'Asur ha fatto sì che i fondi del personale fossero inadeguati. Alcune situazioni le posso anche brevemente riepilogare qualche anno fa ci fu uno sfondamento dei detti di spesa che poi gli stessi lavoratori hanno dovuto pagare reintegrando 400 mila euro all'anno di fondi per il personale. A questo si aggiunge il malvezzo degli anni passati di aprire nuovi servizi senza variare la pianta organica e dare nuovo personale. Quindi io comprendo perfettamente questa situazione. Ma la svolta si è avuta quando al suo arrivo ad Ascoli l'assessore Saltamartini ha salutato i manifestanti rendendosi disponibili ad un incontro con una delegazione sindacale al termine della conferenza. Nel corso del successivo confronto a cui hanno partecipato anche l'assessore Castelli, il direttore generale Asur Nadia Storti e il direttore dell'area vasta 5 Massimo Esposito i rappresentanti del personale hanno fatto rilevare le gravissime difficoltà economiche e finanziarie in cui versa l'area vasta 5 che non consentono un'adeguata organizzazione dei servizi sanitari nonché una congrua dotazione organica fortemente compromessa da un ingente numero di dipendenti in servizio a tempo determinato di prossima scadenza che comprometterà ulteriormente il già dequalificato servizio sanitario del Piceno. Inoltre è stata fatta rilevare la spereguata ripartizione dei fondi contrattuali che penalizza fortemente l'area vasta 5. A questo punto l'assessore Saltamartini ha deciso di aprire a livello regionale un tavolo permanente con la delegazione di parte sindacale per la soluzione delle problematiche esposte un'apertura che ha indotto i sindacati a revocare la manifestazione di martedì prossimo. Grazie. 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 Grazie.